benvenuti monarchici assoluti allora eccoci qua ragazzi andiamo a commentare una notizia che è sulla bocca di tutti balotelli convocato agli stage per la nazionale ovviamente già il paese si è spaccato il paese calcistico balotelli si balotelli no prima di andare a sciorinare l'argomento iscrivetevi al video mi raccomando iscrivetevi al canale subito dopo condividete il video lasciate un like lasciate un commento attivate la campanella così non vi perdete nessuno dei miei video intanto oggi nuovo arrivo eccolo qua il pallone dell'inter della nostra amata inter eccolo vedete oggi me lo tengo in mano per fare il video ovviamente il pallone pensate male allora balotelli nazionale dicevamo balotelli nazionale ragazzi andiamo ad analizzare lui non è dentro da un bel po ma fino all'europeo era il bomber in attività italiano con più gol poi forse all'europeo è stato superato credo da immobile ma in una lista di partite sicuramente più lunga rispetto a quella di balotelli e parliamoci caro ragazzi immobile agli europei ha fatto gol nel girone due gol nel mini gironcino poi non è più esistito nelle sfide dirette no quindi ottavi quarti semifinale finale e non solo non ha segnato ma la prestazione è stata davvero scadente scadente ragazzi quindi cosa cosa vuoi dire che balotelli richiamarlo è un peccato anzitutto andiamo a vedere chi sono le alternative a immobile abbiamo belotti che fa ridere nazionale che pure infortunato e poi abbiamo scamacca voi sapete cosa penso di scamacca per me un fenomeno ma potrebbe non bastare ragazzi anzitutto perché scamacca poverino non ha ancora esperienza internazionale ha solo giocato nel sassuolo e non ha mai fatto una competizione internazionale e soprattutto potrebbe non bastare comunque scamacca a livello cioè sai te sei lì che stai pareggiando con la macedonia o ancora peggio magari sei passato con la macedonia e sei sotto col portogallo e devi recuperare una punta sola come scamacca anche accerchiato dagli esterni potrebbe non bastare fra l'altro parliamo nei ragazzi perché i nostri esterni tolto chiesa che poverino infortunato gli mandiamo in bocca al lupo rientrerà la stagione prossima quindi a marzo chiesa non ce l'hai c'hai da quel lato in signe al posto di chiesa che dovrebbe giocare berardi no sostituto naturale lui o volendo bernardeschi ma ragazzi o berardi o bernardeschi non è gente che ha tutti questi gol nelle gambe bernardeschi zero proprio berardi si qualcuno ma nel sassuolo in italia difficilmente ha fatto la differenza in nazionale in signe anche lui nazionale non è uno che fa un sacco di gol eccetera quindi ai chiesa che è infortunato ma un cambio modulo ma un bel 4 3 1 2 i tre centrocampo classici i quattro vabbè dietro ovviamente ghellini poi uno fra bastoni e bonucci a destra di lorenzo anche se secondo me merita una chance d'armianna per quello che sta facendo negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo e a sinistra idem di marco visto che spinazzola non c'è io lo preferisco mille volte a emerson palmieri il nostro caro di marco centrocampo fatto vabbè barella verratti e poi giorginio o comunque ce li hai c'hai locatelli c'hai lo stesso pellegrini sensi e poi il trequartista provi con un pellegrini un zaniolo trequartista dietro la prima punta che a mio avviso non può più essere immobile perché non sta rendendo quindi io promuoverei scamacca titolare prima punta e non vedo niente di meglio di un balotelli seconda punta perché ragazzi sono pro balotelli perché ricordatevi che quelle sono partite secche quelle che andiamo ad affrontare gli spareggi sono partite dove può succedere di tutto anche con la macedonia quindi ti serve il giocatore che ha la giocata che ha il colpo e noi giocatori così non ne abbiamo ogni tanto in signe si inventa qualche tiro a giro basta quindi a questo punto balotelli si con me sfondi una porta aperta roberto mancini va bene balotelli io addirittura lo schiererei titolare ma se non lo puoi schierare titolare comunque portarlo è un bene perché non la sblocchi sei sotto devi comunque fare gol fai entrare mario sei in giornata ti fa un tiro come quello che fece quando giocava non so al milan contro il bologna che ha segnato da 35 metri stop tira e parla all'incrocio o mille di quelli che ha fatto all'inter me ne ricordo uno col chievo altrettanto stupendo da fuori aria e ti sblocca la partita ti fa gol ti fa vincere quindi io sono probalotelli nazionale ragazzi perché ricordate il monarca ama la tecnica ma non è un caso che sia così è la tecnica che va a decidere le partite importanti nelle partite importanti e sono quelli i giocatori che ti fanno vincere ora a me se non concesso che con la macedonia dovremmo passare ma il portogallo ragazzi di questi giocatori è pieno iniziamo da ronaldo lo sappiamo lo stesso leao yoko jota e bernardo silva e lo stesso joe mutigno che io adoro canselo cioè ragazzi e possa andare avanti c'è una lista infinita renato sanchez tutta gente che ha la giocata che te la può decidere la partita e noi non possiamo rispondere con meno di zero quindi super mario in campo si negli spareggi perché ragazzi al di là delle antipatie simpatie personali si impegna non si impegna mi sta sul cazzo mi sta simpatico andiamo al succo lui è uno che ha certe giocate e quelle giocate che lui possiede non vengono fuori per un impegno cioè non è quel giocatore che per forza se non si impegna diventa inutile perché allora potrei capire guarda barotelli uno che non corre non gli va di sbattersi diventa inutile no lui anche se per 80 minuti non ha corso non ha fatto contrasti non è rientrato in difesa però poi ti tocco una palla tirata 30 metri e segna noi uno così in campo ci serve specie in una partita secca quindi io sono pro barotelli e ci aggiungo anche joe pedro perché anche joe pedro è uno così meno tecnica di barotelli ma la tecnica ce l'ha e in aria si fa rispettare è un ora pace certo anche lui stesso problema di scamacca esperienza internazionale zero però è uno che può avere anche lui quei colpi quindi barotelli e joe pedro sì per me sì vanno portati non li vuoi mettere i titolari va bene però in panchina io soprattutto barotelli me lo porto se la partita non va per come deve andare c'ho uno che mi entra 30 minuti magari le difese stanche mi fa un tiro o mi fa l'imbucata perché lui è anche uno che fa degli assist clamorosi ricordiamoci quando il city vince la premier league al 93esimo su gol di aghero se non vado errato e super mario che gli fa quell'assist all'ultimo secondo da terra in scivolata quindi ragazzi occhio a dire no no balotelli a me del comportamento dell'impegno della figura sua nel calcio al di fuori del rettangolo verde non me ne frega niente a me interessa qualificarmi al mondiale quindi se ho qualcuno che ha la giocata il corpo in canna il corpo del campione e mi può decidere la partita io lo porto quindi voglio mario non dico titolare anche se io ripeto farei un bel balotelli scamacca e dietro zaniolo ma se proprio non deve essere titolare quanto meno io in panchina lo porto quindi fatemi sapere cosa ne pensate in merito a balotelli sì o no da portare agli europei scusate allo spareggio per i mondiali ok quindi fatemi sapere voglio questo nei commenti e mi raccomando ci vediamo al prossimo video il nostro ok iscrivetevi al canale iscrivetevi poi cliccate sulla campanella attivatela cliccate su tutte condividete con gli amici tifosi e il nostro solito saluto in latino vide te mox